Nuova svolta shock nel caso Pierina Paganelli. La vicina di casa ha mentito. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Mentre il mistero avvolge ancora la tragica fine di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni brutalmente uccisa nel garage del suo condominio a Rimini, nuovi e avvincenti dettagli emergono, gettando ombre sempre più intriganti sui principali sospettati. Valeria Bartolucci, vicina di casa della vittima, suo marito Luis da Silva e i fratelli Loris e Manuela Bianchi, sono i protagonisti di questo dramma che tiene col fiato sospeso l'intera comunità. Nonostante la tensione nell'aria, nessuno di loro è ancora stato ufficialmente indagato, e il mistero persiste nel tentativo di collegare uno di loro alla scena del crimine. Tuttavia, in un'incredibile rivelazione, un residente dello stesso condominio ha scoperchiato un segreto finora ignoto agli investigatori. Valeria Bartolucci, moglie del giovane Luis da Silva, ha avuto una relazione nel passato con la nuora della vittima, aggiungendo un intricato strato di complicazioni alla storia. Si è appreso che Bartolucci aveva accesso a un secondo box nel garage condominiale, un box di cui non era formalmente proprietaria, ma possedeva le chiavi per parcheggiare la sua auto nei giorni di maltempo. La fonte chiave di questa rivelazione è stata un'altra coinquilina, amica dell'infermiera, che, fino a poco dopo il delitto, aveva concesso a Bartolucci anche le chiavi dell'appartamento. Dettagli che, incredibilmente, non sono mai giunti all'attenzione degli investigatori, che, di conseguenza, non hanno effettuato un sopralluogo cruciale. Con il caso che si dipana in modo sempre più complesso, sorgono domande inquietanti. Cosa sa realmente Valeria Bartolucci? E quali altri segreti potrebbero emergere dal garage e dall'appartamento di Pierina Paganelli? Un enigma che continua a tenere tutti con il fiato sospeso, invitando gli spettatori a condividere le proprie teorie e supposizioni nei commenti, poiché il mistero avvolge ancora la verità.